Ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube come sempre una buona serata a tutti voi siamo nel nostro appuntamento insieme di analisi e estrazione andiamo a valutare quello che è successo nel quale estrazione di venerdì 19 aprile e notate la grande corsa del 90 la grande super frequenza del 90 che io vi sto annunciando che vi avevo annunciato il 90 sta sortendo praticamente ad ogni estrazione quasi con sortite multiple su più ruote 4 ruote 3 ruote 2 ruote come questa sera è un mese di aprile che ne vedrà ancora di bellissimi 90 sortire la scorsa estrazione nell'analisi di giovedì 18 vi ho detto attenzione chi vuole giocare il 90 lo punti in pari Cagliari quarta e quinta posizione benissimo 90 vinto a Cagliari in quarta posizione erano le ruote migliori ho sottolineato che erano le ruote più potenti e così è stato quando vado a darvi indicazioni con il 90 io mi auguro che ne fate tesoro per poi andare a vincere perché questi sono consigli gratuiti che io vi do analizzando il quad estrazionale spero che tanti di voi vadano a vincere con i miei consigli perché comunque sono ambate in posizione sono ambate che pagano bene tra l'altro vi avevo consigliato anche il 69 Genova Torino sortito a Torino in prima posizione vi ricordate quella distanza 1 che abbiamo visto l'andiamo a valutare di nuovo 48 49 20 21 cosa ho fatto ho sommato 20 49 69 21 48 69 vi ho detto che qua esce il 69 prima e seconda posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 colpo 69 a Torino prima posizione ecco la costanza nel gioco cosa significa ecco cosa vuol dire portare avanti le previsioni ecco cosa vuol dire avere fiducia avere costanza per poi andare a vincere un'altra ambata che vi ho regalato e siamo andati a vincere alla grande su Torino in prima posizione il mio 90 segreto vi ho detto che sarebbe arrivato ancora e Genova paga ancora il 90 proprio dal mio 90 segreto tra l'altro lo paga dalla spia 90 di Firenze che io vi avevo proposto sul mio canale youtube un 90 su Genova che avevamo già vinto allora c'era la spia 90 su Firenze vediamo di quando era la condizione era del 4 aprile e subito andammo a vincere il 90 sulla ruota di Genova il 13 aprile in quinta posizione l'abbiamo vinto di nuovo verdi 19 sulla ruota di Genova ecco come i 90 si ripetono sempre sulle stesse ruote ecco come le mie spie pagano la grande ecco come quando vi dico che ci sono i 90 forti arrivano la grande le mie spie pagano le mie spie sono forti le spie sono imbattibili sul 90 5 ambi unica ruota unico estratto il 90 su ruota unica con pagamento alla vincita nella modalità vincita avvenuta quindi cari amici attenzione non perdere le spie perché abbiamo una bellissima spia sulla ruota di Bari la spia 70 di nazionale con i cinque ambi ruota di Bari sono bellissimi gli abbinamenti quindi non perdete questa spia 3 4 8 7 5 4 7 7 1 5 vi avevo detto che avevamo due spie in gioco quella di Bari e quella di Genova quella di Genova ci ha ridato la vincita sulla ruota rimane quella di Bari tranne se non ci sarà un'altra spia bella da presentare poi analizziamo il quale estrazionale ma Bari è molto forte vi ho detto che Bari Cagliari pagavano Cagliari ha pagato adesso è il turno della ruota di Bari attenzione che arriva quindi come vedete altri 2 90 beccati alla grandissima dei miei consigli scorsa estrazione abbiamo beccato la data plus 13 ruota di Bari abbiamo il 22 metodo lotto la data vediamo se domani ci premia come sabato scorso 22 Bari Cagliari anche prima e seconda posizione con la data e con la data plus sono due metodi fantastici io vi do un solo abbinamento ambi ambetto da giocare sulle ruote di Bari Cagliari si paga alla vincita quindi potete contattare me per questi due metodi per giocare con me la revisione completa sempre via whatsapp il numero mio di whatsapp lo trovate sempre in descrizione attenzione i miei metodi vanno sempre alla grandissima metodo lotto ambata perpetua cosa vi davo Firenze nazionale tutte 21 90 vinto il 21 90 sulla ruota di Cagliari quindi a tutte le ruote ma è solo un ambosecco quindi dai miei consigli si va a vincere sempre alla grande e poi vinciamo con il mio metodo storico ambata fatata ambata secca 5 sulla ruota di Bari ma questo mese i miei metodi sono andati veramente molto forte abbiamo vinto con ambata big abbiamo vinto con ambata meraviglia abbiamo vinto con ambata fatata abbiamo vinto con gli ambi infallibili abbiamo vinto con l'ambata turbo che ha sbancato abbiamo vinto col milanapoli manca l'appello venezia da sbanco vediamo cosa succede ma metodi che sono andati fortissimo quindi chi vuole acquisirli o il singolo metodo o il pacchetto metodi può contattarmi sempre a questo numero via whatsapp questo è il diario del mister ma chi segue questo diario si va a portare a casa grandi vincite perché veramente arrivano poi tra l'altro anche vincite multiple nell'arco del mese quindi mi raccomando le versioni complete dei miei metodi ambo eterno Bari figura 9 in terza posizione 81 guardate poi a parte l'89 anche un ottimo segnalatore 5 89 qui arriva un 90 da sballo 39 guardate il 39 sortito in due estrazioni consecutive in posizione adiacenti prima in seconda il 18 aprile poi in prima il 19 di aprile qui arriva un 90 da sbanco ruota unica Bari 90 secco da giocare anche quarta e quinta posizione lo vinciamo alla grande 5 ambisecchi unica ruota dalla spia 70 nazionale caldissima questo è il momento di battere questo è il momento di prendere il metodo quindi attenzione cagliari addirittura si potrebbe ripetere 56 segnalatore 3 segnalatore l'uno segnalatore vi ricordate questa situazione che vi ho fatto vedere con gli zerati vi ho detto qua arriva il 90 zerati 80 10 sotto pia perfetta ed è arrivato alla grande in pochi colpi ruota di cagliari ma io ve l'ho detto scorsa estrazione vi ho detto giocate il 90 bari cagliari quarta e quinta posizione sortiscia alla grande quindi mi raccomando bari 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 ruota unica poi notiamo la figura 9 27 firenze genova e sotto pia perfetta quarta posizione genova ancora potrebbe andare in ripetizione zerati unito 50 90 con la figura 9 27 c'è il 9 su firenze doppia figura 9 27 e 9 guardate su bari l'81 se lo sommiamo all'unità dell'89 81 e 9 fa 90 poi abbiamo cadenza unita 23 63 napoli doppia cadenza unita sia cadenza 9 sia cadenza 3 19 29 23 63 poi abbiamo il gemello in terza posizione dice sia 90 palermo quindi cagliari palermo ma questa situazione cosa vi ho detto che c'era il gemello in terza sulla ruota di torino vi ho detto attenzione genova torino e così è stato la condizione del gemello in terza è fortissima tenetela sempre a mente il gemello in terza posizione dice sia il 90 il mio metodo che ho presenato tanti anni fa e va a sbancare quando c'è il gemello in terza si vince il 90 poi il mio 90 segreto ancora in gioco mi raccomando un solo ambosecco su due ruote modalità vincita venuta si paga la vincita ancora in gioco genova e torino quindi attenzione c'è il 3 terza posizione molto bello distanza 21 e 3 c'è l'uno di torino c'è la cadenza 9 69 prima posizione e genova c'è questo zerato unito che mi piace molto con questo triangolo di figura 9 firenze e genoa 27 27 e 9 poi vediamo un po cosa abbiamo il 5 sia bari sia venezia ruote gemelle poi vediamo ancora qualcosa già dire ancora qualcosa il 60 di torino anche un ottimo segnalatore somma 90 palermo 33 57 palermo roma è anche una bella coppia per il 90 quindi attenzione c'è la cadenza tra i soldi 43 questo è molto interessante poi vediamo un po cosa possiamo dire ancora un 90 che arriverà ancora alla grande vedremo domani sabato 20 cosa succederà ma io questa situazione ve l'avevo annunciata da fine marzo aprile andate nel mese di aprile da vedere quanti 90 sono arrivati ma io queste cose ve le avevo dette siete testimoni siete testimoni dove io ogni analisi vado a dire dove esce il 90 la scorsa estrazione vi ho detto bari cagliari e arriva a cagliari vi ho detto genova ripetizione arriva genova ripetizione ne abbiamo vinti diverse in questo mese di aprile vi ricordo solo firenze ne abbiamo vinti una maria con la spia 72 quindi mi raccomando alle mie spie mi raccomando i due metodi la data la data plus mi raccomando idea vincente anche molto forte un ambo su tre ruote bari cagliari genova anche qui in modalità vincita venuta questi sono i miei prodotti per vincere a colpo e chi vuole acquisire i miei metodi chi fosse interessato a giocare i metodi perché comunque ne siete tanti quindi ognuno di voi può avere esigenze di gioco diverse e quindi può scegliere anche di giocare o con il metodo o con le mie previsioni quindi ognuno può scegliere liberamente ciò che vuole fare sono tutti prodotti vincenti direi che abbiamo detto tutto quindi chi vuole giocare il 90 ruota unica bari ma caleri potrebbe andare anche ripetizione avete visto che è successo su firenze quindi avete visto che è successo su genova come la tendenza è quella quindi tutto può succedere però ci possiamo ritenere soddisfatti con il 90 in questo mese di aprile perché veramente venivano fatti vincere una maria ve l'ho fatto vincere a firenze ve l'ho fatto vincere a cagliari ve l'ho fatto vincere a genova abbiamo vinto a milano quindi ne sono usciti veramente diversi bari molto molto forte quel doppio 39 sottolineo due stazioni consecutive è veramente bellissimo quindi secondo me arriva alla grande direi che abbiamo detto tutto quindi c'è un appuntamento all'estrazione di sabato 20 di aprile ultima della settimana e vedremo quello che andrà a succedere per adesso saluto a tutti i mister sbancolotto